Corsa contro il tempo per preparare la complessa macchina delle primarie per scegliere il candidato governatore del centro-sinistra. Domenica dalle 8 alle 20, infatti, i cittadini Emiliano Romagnoli andranno nei circa 800 seggi allestiti in regione per scegliere il candidato che correrà per il posto Errani. Con il rischio bassa affluenza, la sfida è tra il segretario regionale Stefano Bonaccini e l'ex sindaco di Forlì, Roberto Balsani. Il primo nato a Modena, non immediatamente Renziano, dal 2009 segretario regionale del PD dell'Emilia Romagna. Amministratore pubblico a Campo Galliano e a Modena ha coordinato la campagna nazionale delle primarie 2013 per Matteo Renzi. Durante la campagna elettorale Bonaccini è indagato dalla procura di Bologna per l'inchiesta Spese Pazzi in regione. Sono una persona per bene, si era difeso, non mi ritiro. L'ex sindaco di Forlì, Renziano della prima ora, invece è docente universitario in storia contemporanea a Bologna. Impegnato nelle battaglie contro era e nella riorganizzazione della sanità, Balsani oggi è candidato alle primarie del PD. Finora la guerra tra i due è avvenuta soprattutto in rete. Due soli confronti pubblici, uno al Parco Nord in occasione della festa dell'unità e l'altro davanti alla rete degli innovatori del Working Capitale. Bonaccini può contare sull'appoggio di moltissimi sindaci, a partire dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, e da quello di Modena, Giancarlo Muzzarelli. Sostegno anche da Cecil Chieng, Andrea Segre e Gianni Cuperlo. Balsani invece incassa il supporto di tutti i renziani della prima ora e in particolare del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio. Briscoloni a parte, domenica la parola spetterà agli elettori. Per votare occorrerà presentarsi infatti al seggio con un documento di identità, versare due euro ed esprimere la propria preferenza. Grazie.